Ehi, chi è il ramo amico adesso? Vabbiamo di andare più veloce! Guardalo immediatamente qui! Dove cavolo sono finito? Per caso quella è la famosa scuola per coniglie? Voi quindi esistete davvero? Eh, vi chiedo scusa... Sarà un'impresa ardua affrontare certe prove, anche per il più scaltro coniglio di città. Voi fate qualche sport in città? Cavalchiamo barboncini e voliamo su cose fighe, ma non sport stupidi come... Qui ci alleniamo per gli esami finali da conigli pasquali. Forti, vero? Oh, beh, non male. È arrivato il momento che mi piace di più, la scomparsa. Fantastico! A Pasqua, preparati per una grande avventura. È fatto in tiramente d'oro. L'uovo ci dona la forza e ci fraccaggia dalle polpi. Max e i suoi nuovi amici. Riusciranno a salvare l'uovo d'oro? Ce l'abbiamo fatta! Credi che quel tempistello possa aiutarci? Sì! Se le polpi rubassero l'uovo, non ci sarebbero più i conigli pasquali. Rabbit School. I guardiani dell'uovo d'oro. Non riusciranno mai a prendere l'uovo. Iscriviti al ghosts Shortland. Iscriviti al